La Guardia Costiera di Porto Empedocle, in occasione di programmati controlli espletati lungo e litorale di propria competenza ed operando nella più generale e complessa operazione denominata Mare Sicuro 2016, ha riscontrato in località Lido Marinella e in località Punta Grande, rispettivamente nei comuni di Porto Empedocle e Real Monte, la presenza di tende sulla spiaggia, la cui permanenza prolungata avrebbe potuto concretizzare attività di campeggio e inoltre il transito sul suolo demaniale di un motoveicolo. I proprietari della tenda sono stati sanzionati con verbale di illecito amministrativo pari a 200 euro, qualora venga effettuato il pagamento in misura ridotta, e diffidati allo smontaggio e al rispetto della normativa in vigore che vieta le attività di campeggio e il pernotamento sulla spiaggia con tende. Tale norma vieta inoltre l'accensione di fuochi sulla spiaggia. Il proprietario del motoveicolo invece è stato sanzionato per il transito non autorizzato sulla spiaggia che comporta una sanzione pecuniaria di 206 euro e 60 centesimi. Inoltre si è accertato che lo stesso non aveva provveduto a effettuare la revisione del veicolo. Pertanto, oltre alla sanzione, è stato applicato un provvedimento che impone al proprietario del mezzo il solo trasferimento al centro di revisione per dovere d'ufficio e è stato definito alla Guardia di Finanza per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio in spiaggia. La Guardia Costiera ha reso noto che nei prossimi giorni, in particolare in prossimità della festività del Ferragosto, verrà perseguita qualunque forma di utilizzo improprio del suolo demaniale, intensificando i controlli e punendo i soprusi a norma di legge, anche con l'ausilio delle altre forze pubbliche presenti sul territorio. Si è svolta ieri presso il Comune di Grigento una conferenza di servizi finalizzata alla risoluzione dei problemi di pubblica incolumità causati dalla presenza di numerosi enormi quantitativi di sabbia sulla pista ciclabile e sul viale delle dune a San Leone. La conferenza ha accettato la disponibilità dell'Associazione Mare Amico nel volere riportare al posto di provenienza la sabbia in questione. L'operazione si svolgerà sabato 13 agosto dalle 7 alle 13. Mare Amico realizzerà l'operazione con i propri mezzi e mediante l'aiuto dei volontari che armati di pale e carriole cercheranno di migliorare la situazione di percorribilità della pista ciclabile invasa dalle sabbie. Alla conferenza di servizi ha partecipato anche il dirigente dell'ufficio del Demanio, che ha imposto una serie di prescrizioni. La sabbia potrà essere spostata al di là della barriera di cemento che denimita la pista ciclabile. Quella che si trova sulla strada e che è a diretto contatto con la pista ciclabile è ritenuta potenzialmente inquinata e quindi verrà raccolta e portata in discarica nel rispetto delle norme vigenti in tema di rifiuti speciali. È ovvio che questa operazione è simbolica, temporanea, poiché se non vengono rimosse le cause che originano questo spostamento delle sabbie, il problema, dice l'associazione Marevico, non verrà mai risolto. La Capitaneria di Porto Empedoc ha disposto la chiamata d'imbarco per domani, giovedì 11 agosto alle 11.45, per un marittimo di coperta con la qualifica di marinaio autorizzato alla pesca. L'addetto andrà a completare l'equipaggio della motobarca da pesca Angela Sacco II in arrivo nello scalo di Porto Empedocle. I marittimi interessati possono rivolgersi per ulteriori informazioni prima della chiamata d'imbarco alla Capitaneria di Porto Empedocle. Confiscati e abbandonati. Il docufilm realizzato dall'associazione a testa alta di Licata per raccontare nomadie e ombre che ostacolano in provincia di Agrigento il passaggio all'ultima fase del processo di restituzione alla collettività dei beni confiscati dalla mafia e tra le opere selezionate dalla giuria per il videocontest ripreso bene nell'ambito della quinta edizione di Corto di Sera, la rassegna cinematografica dedicata al cortometraggio che si svolge in provincia di Messina. Il videocontest si pone l'obiettivo di tenere alta l'attenzione su una tematica estremamente attuale come quella della gestione dei beni confiscati e vedrà tra gli altri la presenza del magistrato e saggista Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, impegnato in prima linea contro l'Andrangheta e che vive sotto scorta dal 1989. Sarà proprio Gratteri nella serata finale che è prevista per il 16 agosto a consegnare il premio al vingitore del contest. Sono 28 i cortometraggi in concorso e oltre 500 le opere presentate. I consiglieri comunali di Agrigento Marco Vullo e Angelo Vaccarello hanno inviato una nota al segretario generale di Palazzo dei Giganti per chiedere la revoca della determina dirigenziale che riguarda le autorizzazioni dei punti di stazionamento taxi e la ragione è semplice, spiegano i due esponenti del gruppo Uniti per la Città, in quanto occorre che vi sia il preventivo parere di viabilità rilasciato dal comando della Polizia Locale. In questi giorni ci sono prevenute alcune segnalazioni in relazione alla grave pericolosità determinata dalla presenza dei mezzi taxi nelle vicinanze di Porta Quinta di fronte alla struttura ricettiva al Giardino della Valle. In una porzione di terreno con scarsa visibilità evidenziano Vullo e Vaccarello e noi, alla luce di questo lamentere disagio, al fine di garantire la pubblica incolumità di passanti e turisti, invochiamo perché è illegittimo l'annullamento del provvedimento adottato e sollecitiamo la predisposizione in tempi brevi di un piano di gestione del servizio. Strumento, concludono Vullo e Vaccarello, necessario per tutelare e salvaguardare tutti gli addetti del settore, titolari di nuove e vecchie licenze per offrire un servizio alla cittadinanza e ai visitatori in piena regola. Al via ai lavori di ristrutturazione della scuola materna Carnevale a Campobello di Licata sono interventi di manutenzione straordinaria che sono stati appaltati ad una ditta di Favara per una somma complessiva di 34 mila Euro con un importo a base d'asta quindi di 34 mila Euro ma al netto del ribasso con 27 mila Euro. Resteranno aperti per l'intera giornata del 16 agosto il front office dell'ufficio a relazioni con il pubblico di piazza Aldomoro, le sedi periferiche, i punti informativi di Agrigento e il punto informativo di Porta Quinta nella Valle dei Templi nonostante la chiusura programmata delle sedi degli uffici amministrativi e tecnici del libero consorzio comunale di Agrigento. Saranno garantiti inoltre i servizi di Polizia Provinciale e della Protezione Civile. La chiusura è stata disposta dal direttore generale Giuseppe Vella tenuto conto della ridotta affluenza di pubblico a utenti nel periodo di Ferragosto. Il personale dell'ente sarà quindi collocato in ferie d'ufficio. L'ANAS ha iniziato come da programma l'attività di mantenimento delle opere in verde lungo le strade di propria competenza. Pertanto si sta facendo fronte a quanto segnalato dal comune di Sciacca. Lo ha riferito la stessa società con una lettera riscontrando anche alcune note di sollecitazione che erano state inviate dal sindaco Fabrizio Di Paola che aveva segnalato la necessità di interventi di manutenzione nelle aree di competenza dell'ANAS con particolare riguardo agli svincoli posti all'ingresso della città compresa l'area sovrastante alla galleria Belvedere. Con successiva nota il sindaco Di Paola ha anche invitato l'ANAS a volere provvedere alla pulizia e alla scerbatura delle bretelle laterali della strada statale 115. Trovo sconcertante che ci sia il concreto rischio che l'ANAS vada in vacanza senza avere votato la legge di variazione di bilancio. Lo dice Michele Cimino, portavoce e deputato regionale di Sicilia Futura ricordando che in questi ultimi giorni il Parlamento ha affrontato la riforma della legge elettorale per i comuni quando invece poteva rinviarla alla sessione autunnale atteso che non rappresentava una emergenza. Invece si sono volute discutere e trascurare tante situazioni spinose che meritavano una risposta immediata, aggiunge Cimino. Basti pensare ai lavoratori di sviluppo Italia e Sicilia che attendevano una norma per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai consorsi di bonifica che devono attivare la campagna irrigua e ai tanti precari, non ultimi gli sportellisti senza alcuna attenzione da troppo tempo, conclude l'On. Michele Cimino. E a proposito di legge elettorale, la riforma elettorale ormai è una legge è stata approvata dall'Assemblea regionale siciliana soddisfatto il Partito Democratico, seppur con qualche distinguo mentre il Movimento 5 Stelle ha definito la legge Truffarellum. Vediamo. Nonostante le imboscate e il clima pesante con accordi trasversali di ogni genere alla fine è stata approvata una riforma del sistema elettorale per i 400 comuni siciliani che ribadisce i principi di stabilità e governabilità. Lo dice il vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all'Ars, Giovanni Panepinto. Con emendamenti soppressivi abbiamo impedito che si votasse a turno unico spiega Panepinto e la soglia del 40% per vincere senza ballottaggio obbligherà i partiti a ritrovare le ragioni programmatiche e la salvaguardia degli interessi reali delle comunità. Nelle coalizioni inoltre si impedirà il sistema delle liste fai-da-te. L'elezione al consigliere comunale del candidato a sindaco perdente maggiormente votato quale rappresentante della minoranza continua Panepinto salvaguarderà il senso delle alleanze e delle coalizioni dando rappresentanza a tutto il corpo elettorale. Il tentativo coltivato da Forza Italia e 5 Stelle insieme appassionatamente di eliminare il voto di genere proprio nel settantesimo anniversario del voto alle donne infine conclude il parlamentare del PD è miseramente fallito grazie ad una bella prova di forza della maggioranza del PD. Sulla stessa scia la presidente del gruppo PD a Lars, Alice Anselmo abbiamo scritto una riforma elettorale che garantisce stabilità negli enti locali il PD aveva indicato alcuni punti irrinunciabili soglia di ballottaggio al 40% doppia preferenza di genere eliminazione del voto confermativo punti che sono i pilastri di questa riforma è stato fatto un lavoro complesso e faticoso aggiunge Anselmo siamo soddisfatti per il risultato ottenuto nell'esame della riforma la maggioranza ha dimostrato compattezza ed è stato portato avanti un dialogo costruttivo con le altre forze politiche come è giusto che sia quando si discutono riforme di questo tipo dispiace che invece il Movimento 5 Stelle abbia scelto l'auto isolamento per ragioni di pura propaganda i grillini hanno saputo dire solo no conclude Anselmo peccato hanno perso un'occasione di confronto sulle regole della democrazia Filippo Panarello parlamentare regionale del PD intervenendo in aula a Lars nel corso delle dichiarazioni di voto sulla riforma del sistema elettorale per gli enti locali in Sicilia ha detto esprimo forti perplessità per una legge elettorale che rende più fragile il sistema con questa norma aggiunto si indebelliscono i sindaci e di certo non si rendono più forti i consigli comunali quando si è aperta la discussione sulla legge elettorale ben prima delle elezioni amministrative pochi avrebbero scommesso su questo risultato oggi abbiamo dimostrato che si poteva fare una legge più coesiva più democratica più equilibrata e il commento di Fausto Raciti, segretario regionale del PD in molti, aggiunge Raciti, in queste settimane hanno parlato di tripolarismo ma non è questo il tema della legge così come non lo è sbarrare la strada a questa o a quella proposta politica il punto è che la vita politica dei comuni più che dal tripolarismo è spesso caratterizzata dalla totale frammentazione che porta al secondo turno elettorale proposte dalla legittimazione molto bassa questa legge offre strumenti per aggregare le forze politiche e a rendere più semplice e partecipata la vita politica dei comuni sono soddisfatto di come PD e maggioranza l'hanno portata avanti tenendo conto con serietà dei temi proposti dall'opposizione la Sicilia non torna indietro il voto dell'Ars che conferma la doppia preferenza di genere nella riforma elettorale è un segnale di maturità del Parlamento regionale dicono le parlamentari donne regionali del Partito Democratico Alician Selmo, Marica Cirone Di Marco, Mariella Maggio, Antonella Milazzo Concetta Raia e Valeria Sudano insieme con gli altri parlamentari regionali DEM a proposito del voto con il quale l'Ars ha bocciato l'emendamento che avrebbe cancellato la doppia preferenza di genere per l'elezione dei consiglieri comunali il Partito Democratico aggiungono si è battuto apertamente in questa direzione lo abbiamo detto fin dall'inizio per noi questo era un punto fermo dalla riforma elettorale per il Movimento 5 Stelle la riforma approvata si chiama truffarellum finalmente i siciliani hanno cosa mettere nella pentola la legge elettorale si legge in una nota la priorità di questa classe politica è solo una andare contro il Movimento 5 Stelle anche a dispetto dei veri interessi dei siciliani commenta in questo modo il Movimento 5 Stelle al Nars il truffarellum la legge elettorale varata in fette e furia da Sala d'Ercole in pieno agosto con priorità assoluta su tutto ogni commento ha detto Giancarlo Cancelleri è superfluo e il nome truffarellum con cui abbiamo battezzato questa legge la dice tutta sulla sua essenza una legge inutile, anzi dannosa pianificata a tavolino dai partiti per cercare di truccare le regole del gioco a proprio vantaggio volevano pure togliere i ballottaggi ma hanno capito che l'effetto boomerang contro di loro sarebbe stato fortissimo e hanno fatto marcia indietro ma i siciliani, conclude Cancelleri hanno capito lo stesso e dentro la cabina elettorale gliela faranno pagare cara dopo lungo e travagliato iter viene approvata la nuova legge per le elezioni del Consiglio Comunale dei Sindaci la ritengo una buona legge in particolare perché valorizza il ruolo del Consiglio Comunale quale organo di democrazia di partecipazione e di massima rappresentanza popolare lo dice in una nota l'onorevole Gatano Cani in merito all'approvazione all'Ars della legge elettorale riporta equilibrio tra amministrazione e assemblea cittadina soprattutto l'articolo 7 riporta chiarezza e giustizia nei confronti dei revisori dei conti aggiunge l'onorevole Cani infatti ora verranno eletti per sorteggio quindi con la massima trasparenza lasciando l'organo libero da ricatti e condizionamenti politici ancora viene data la possibilità ai tanti preparati professionisti siciliani di partecipare liberamente a Grazie a tutti.